signora vado al dottore a tutto lei mi deve aiutare, mi marito non è più quello di una volta signora non faccia così ma non c'è problema ora ci stanno queste pasticche prenda queste pasticche e gli da sera prima di cena vabbè la signora appena arriva a casa prima di cena gliene gratta un po' dentro la pasta poi si ricorda di aver dimenticato qualcosa in cucina rientra in cucina e nel frattempo il marito gli urla amari ma che cazzo c'hai buttato dentro sta pasta o? dice perché? perché c'è stanno gli spaghetti in piedi e le cose che stanno applaudì